Musica Piccoli e grandi tifosi del Vicenza, rimanete fermi dove siete perché questa sera parliamo dell'Anerossi, parliamo di settore giovanile bianco-rosso insieme al responsabile dell'attività di base dell'Anerossi-Vicenza, area bassanese, Claudio Conte. Buonasera Claudio. Buonasera a tutti. E allora insomma cerchiamo un attimo di inquadrare il ruolo, i compiti, le mansioni del nostro ospite che oltretutto è anche responsabile dell'area scouting. Allora per prima cosa apriamo una parentesi sulla difficoltà del momento per un responsabile che si occupa proprio di scouting di andare a scegliere, capire, selezionare i vari giocatori. Non si gioca, insomma non si è giocato neanche in primavera, quindi è un compito davvero proibitivo, difficile. Beh, purtroppo il periodo ci impone di non poterci muovere più di tanto, per cui quello che possiamo fare, quello che può fare la mia squadra, siamo circa dieci persone che girano per i campi, è andare a visionare dove si può gli allenamenti. Noi abbiamo circa una quarantina di società gemelle e con loro cerchiamo di far sì che gli allenamenti che loro svolgono magari vengono programmati, ce li fanno sapere e noi cerchiamo di muoverci nel territorio. Fermo restando, Alex, ti dico che è un'importanza fondamentale per i nostri osservatori sapere anche il materiale umano che abbiamo in casa, per cui in questo primo periodo, visto che tutte le nostre squadre stanno facendo ancora attività, loro si stanno muovendo durante la settimana per conoscere al meglio quanto abbiamo in casa. Ecco, parleremo dopo, fra poco, dell'attività che svolge, quindi degli allenamenti individuali, il Lanerossi-Vicenza, il settore giovanile dei Biancorossi. Chiudiamo la parentesi sullo scouting perché chiaramente facevi riferimento alle varie società affiliate, gemellate, soprattutto qui nell'area bassanese con il Vicenza. C'è veramente uno scambio di informazioni importanti, c'è un confronto importante perché non bisogna spegnere i sogni dei bambini, insomma sono tanti quelli che desiderano di indossare la maglietta del Vicenza, nonostante il periodo comunque voi cercate di tenere monitorato il più ampio spettro di società e di giocatori possibili. Assolutamente sì, anzi ti dirò che la società stessa, la proprietà, ha desiderato mettere in piedi questo progetto per riacquisire fiducia e creare un ottimo rapporto con il territorio che purtroppo, sappiamo benissimo le vicissitudini passate della società, si era perso. Credo che nell'anno scorso e in quest'anno abbiamo fatto notevoli progressi, anzi non dico che siamo quasi costretti a selezionare delle società, però abbiamo una richiesta molto elevata di società che vogliono diventare nostre collaboratrici. Ecco, io giro molto fra i campi, insomma nelle varie società, devo dire, devo riconoscere che la prima cosa che mi fanno vedere con orgoglio è lo striscione con scritto società gemellata con il Lane Rossi Vicenza. È una grande responsabilità ma è anche una grande soddisfazione, come dicevi, la presenza qui nel territorio, parliamo di area bassanese, è veramente forte, facevi accenno a circa 40 società affiliate, che tipo di rapporto, che tipo di progetti ci sono per l'area bassanese? Beh, ti dirò che non è che facciamo proprio una distinzione area bassanese o area vicentina, il progetto vale per tutte le società, anche perché abbiamo società che non appartengono all'area vicentina, ma vanno anche al di fuori della provincia. Abbiamo messo in piedi un progetto importante, un progetto tecnico che sta portando avanti Lorenzo Simeoni, che è anche il mister della nostra squadra Primavera. Noi settimanalmente, di solito tutti i lunedì sera, anche in questa settimana, organizziamo adesso purtroppo in Zoom, perché non possiamo invitare gli allenatori a Casa Vicenza, lì allo Stadio Menti, però anche questa settimana 98 allenatori di squadre esordienti e giovanissimi, perché la tematica riguardava questa fascia d'età, hanno partecipato a questa serata di formazione. E quindi c'è uno scambio di conoscenze, di supporto tecnico, di know-how, insomma, chiamiamolo come vogliamo, fatto sta che le società gemellate si sentono veramente parte di questa grande famiglia. Facevi riferimento poco prima, Claudio, al discorso che si sta andando avanti con gli allenamenti individuali, sempre nel massimo rispetto di quelli che sono i protocolli di sicurezza. Che cosa state facendo a Vicenza? Guarda, su questo devo ringraziare la società e il nostro responsabile Michele Nicolin, perché abbiamo cercato in tutti i modi di fare in modo che l'attività continui. abbiamo cercato di mettere in secondo piano l'aspetto, diciamo così, tecnico del progetto. E in primo piano abbiamo messo la necessità dei ragazzi che devono svolgere l'attività motoria e l'attività sportiva. Abbiamo avuto una forte richiesta da parte delle famiglie che anche loro stessi sentivano il bisogno di dare ai figli questo supporto. Noi continuiamo a fare gli allenamenti con tutte le squadre, dalla primavera fino ai piccoli amici. Ovviamente, come hai detto tu, rispettando i protocolli nei minimi particolari. E su questo abbiamo avuto un riscontro anche da parte dei ragazzi che hanno dimostrato responsabilità, coscienza del problema. e grazie anche a questa loro dimostrazione di responsabilità stiamo cercando di fare il massimo e abbiamo un'ottima risposta da parte loro, sempre presenti. Ti dirò, non credo sia solo fortuna, abbiamo pochissimi casi nel settore giovanile di ragazzi con Covid. E questo vuol dire che le cose vengano fatte sicuramente seriamente. Da noi i ragazzi sono protetti. Ecco, possiamo paragonarlo quasi a un servizio per la società, un servizio sociale quello che state facendo. Assolutamente, assolutamente. Perché spesso e volentieri ci si dimentica di quanto poi l'attività fisica, l'attività aggregativa insomma sia molto importante per la crescita, per il benessere insomma dei ragazzi. Quindi, come dicevi, anche con le famiglie il rapporto com'è? Sì, guarda, non lo dico io, lo dicono gli studiosi che lo sport, il gioco aiuta a crescere a 360 gradi. Un bambino che non gioca o che non si rapporta praticamente perde degli step di crescita della sua formazione. Mi chiedevi delle famiglie, anzi ti ringrazio, ne approfitto per ringraziare le famiglie perché veramente hanno dato un contributo importantissimo, si sono dimostrate collaborative sotto tutti i punti di vista. Tu sai benissimo che anche noi utilizziamo dieci pulmini che purtroppo non possiamo utilizzare a pieno per rimanere all'interno delle norme, insomma di quanto prevede il protocollo. Abbiamo fatto dei protocolli e su questo abbiamo avuto un contributo da parte dei genitori fondamentale. Te l'ho chiesto perché, insomma, spesso e volentieri abbiamo sentito, chi ci segue lo sa, parlare responsabili di settori giovanili che sottolineavano quanto magari fra i genitori, fra le famiglie albergasse un po' di paura nel far continuare l'attività fisica ai propri figli. Invece, dalle mail anche che ci sono arrivate in redazione, mi sembra veramente di capire che Vicenza in questo caso è un'isola felice, cioè genitori collaborativi e grande voglia di portare avanti comunque questo progetto. Assolutamente sì. Noi tutte le settimane abbiamo la soddisfazione di ricevere da parte dei genitori un grazie perché continuiamo a dare un contributo importante ai loro ragazzi, anche perché se non venissero al campo in qualche maniera dovrebbero sfogare questa loro voglia di giocare, di confrontarsi e noi per fortuna siamo riusciti e spero di continuare a dare questo importante servizio. Ecco Claudio, parlavi di quanto importante sia per i giovani incontrarsi, socializzare, e vedersi insomma praticare sport per la loro crescita, per il loro benessere e su questo siamo tutti d'accordo. Ti chiedo dal punto di vista tecnico invece, mi hai detto che è un aspetto che in questo momento giustamente avete messo al secondo posto, però non c'è il rischio di tra virgolette perdere qualche talento che sarebbe dovuto sbocciare, fiorire in questa annata sportiva, cioè un giocatore che vuole crescere anche dal punto di vista tecnico, che ripercussioni ha? Secondo me Alex il rischio c'è, non è un rischio grosso nel senso un talento non è che lo perdi, sicuramente ritarderà questa fioritura. Maturazione diciamo così. Però questa situazione non riguarda soltanto lo sport, riguarda la scuola, riguarda l'amicizia, i rapporti sociali, purtroppo tutta la società si è fermata, ci siamo un po' congelati, come si può dire. L'importante è che quando ci riaprono le porte magari cercheremo di recuperare il terreno o perduto facendoli magari giocare di più o mettendoli a confronto di più. Ecco invece dal punto di vista emotivo, psicologico, a Vicenza gli allenamenti stanno continuando, però insomma sappiamo tutti che un allenamento individuale è diverso dalla partitella, è diverso dall'essenza del gioco del calcio, che è un gioco di contatto. Quindi ci si ritrova, ma ti faccio una doppia domanda. Dal punto di vista psicologico che tipo di supporto date ai ragazzi, alle famiglie, magari qualche ragazzino che ha voglia di smettere o che magari è particolarmente triste per il momento che state vivendo e che sta vivendo la società. E poi ti chiedo anche se appunto c'è il rischio che anche fra i più grandi, insomma non fra quelli dell'attività di base, ci sia qualcuno che perda un po' la passione per il calcio, dovendo giocare così, insomma, in maniera molto limitata. Per i più grandi forse io credo ci sia un rischio maggiore, perché molti hanno smesso di continuare l'attività, anche perché coscienti del fatto che con il contagio magari rischiavano anche il lavoro, i problemi in famiglia, i ragazzini sono ancora spensierati per certi punti di vista, per cui per loro il gioco, l'attività ludica e primaria, anzi io mi ricordo quando avevo la loro età, ma non credo solo io, cioè i genitori quando dovevano metterti il cosiddetto castigo, la punizione, non c'era di peggio che ti dicessero tu oggi non esci, tu oggi rimani in casa. È vero. Per capire l'importanza che loro danno al gioco, all'attività motoria. E quindi se c'è un messaggio di speranza, di positività, nel senso buono, insomma, in questo periodo è proprio questa, la passione dei più giovani e la passione dei più piccoli. Siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, di questo piccolo viaggio nel mondo del settore giovanile dell'Anne Rossi-Vicenza, è un settore, è una realtà che noi seguiremo costantemente durante tutta la stagione, sperando insomma che si possa riprendere l'attività che le cose migliorino al più presto. Assolutamente. Assolutamente. Io ringrazio Claudio Conte per essere stato in nostra compagnia, grazie. Piacere, è stato mio. L'appuntamento con tutti voi oramai lo sapete, alle ore 20 qui su Rete Veneta, sempre con Sport in Casa. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.